raviolini di bieta, parmigiano e fagiolini. Ho deciso di mostrare come fare con grande facilità un impasto verde con un'erba tipica della cucina italiana, la bietina da taglio. Il ripieno sarà altrettanto tradizionale negli ingredienti ma ancora più semplificato rispetto alla ricetta tradizionale nell'esecuzione. Grande semplicità nei passaggi perché poi il gusto alla fine nel piatto sia ancora più interessante. Parto dalla bietina, la bietina la useremo sia per il ripieno sia per la pasta. Nel caso del ripieno avrò bisogno di un po' di tempo in più per lasciarla riposare, quindi parto dalla bietina sbollentata. La vado a sbollentare in acqua salata e la raffreddo molto velocemente in acqua e ghiaccio. taglio grossolanamente la bieta in maniera tale da far sentire poi la consistenza del gambo e della foglia quasi separatamente. Nei ripieni tradizionali italiani fatti con la bieta sempre c'è un taglio al coltello però poi quello che si è sempre cercato di fare è quello di eliminare l'umidità o comunque compensare l'umidità con degli ingredienti secchi. Nel nostro caso invece noi cerchiamo di preservare più umidità possibile in rapporto ovviamente alla possibilità di riempire ravioli farcirli e conservarli. Quindi una volta tagliata la bieta noi la andiamo a appoggiare in uno chinois in maniera tale che l'acqua in eccesso semplicemente per la forza di gravità senza schiacciarla in nessun modo scenda. dopo circa mezz'ora la bieta avrà perso l'umidità in eccesso. Quando la bieta avrà perso l'umidità in eccesso la vado a condire definitivamente per il ripieno. Quello che mi interessa recuperare è l'abbinamento tradizionale bieta parmigiano senza però altri ingredienti che confondano il gusto. Quindi andiamo a aggiungere il parmigiano grattugiato a gusto. Aggiungiamo il sale. Più umidità riusciamo a tenere all'interno del raviolo più interessante sarà la consistenza del ripieno. Il ripieno è pronto. Con la stessa bietina con cui abbiamo fatto il ripieno però questa volta utilizzando la cruda andremo a fare il nostro impasto verde. All'interno del frullatore aggiungiamo oltre alle foglie di bieta un uovo. Andiamo a frullare. Dopo aver frullato la parte verde delle foglie con le uova quindi con la parte umida aggiungeremo la farina quindi la parte secca. Questa tecnica può essere utilizzata con tantissime diverse foglie non con tutte. Ci sono delle foglie come per esempio il basilico che se frullato assieme alle uova in un frullatore tendranno ad ossidarsi. Ce ne sono altre invece come per esempio il prezzemolo piuttosto che il crescione che possono tranquillamente essere trattate allo stesso modo della bieta quindi crude frullate con le uova unire la parte secca. La freschezza e la parte aromatica delle erbe verrà mantenuta e alla fine il verde sarà brillantissimo. Otteniamo quindi un impasto. Dopo aver aggiunto la parte secca dell'impasto che avete in ricetta otterrete un impasto verde brillante molto umido con cui poi formeremo i ravioli. Avendo un ripieno altrettanto umido l'elasticità della pasta sarà essenziale per evitare che si rompano nella formazione. L'impasto dopo averlo fatto va tenuto a riposo in frigorifero circa un'ora in maniera tale che perda l'elasticità eccessiva poi lo sfogliamo in maniera graduale fino ad arrivare allo spessore desiderato per la formazione dei ravioli. Tendenzialmente amo la pasta molto sottile soprattutto quando deve essere ripiena. Questo sarà l'ultimo passaggio prima della formazione dei ravioli. Andiamo a formare i ravioli preferisco che non siano troppo grandi per il piatto e quindi ho scelto questo coppapasta. L'umidità residua è veramente tanta all'interno quindi vi consiglio comunque di non farli enormi. Eventualmente possono essere congelati ma non possono essere tenuti in frigorifero a lungo prima dell'utilizzo. Li vado a riempire con la bieta e parmigiano. Il fatto che siano elastici ci consente di riempirli moltissimo senza che si rompano. Potrebbero essere anche lasciati così ma il fatto di avere poi due salse molto liquide e non una crema per andarli a condire rende migliore questa forma poi per l'impiattamento. Faranno da contenitore alle due centrifughe che poi saranno nel piatto. Quello che mi piace del ripieno è che ancora si intuisce la struttura della bieta e al contempo il parmigiano rimane staccato come gusto e tutto questo avviene perché c'è l'acqua. Due ingredienti sono abbinati in questo piatto alla bieta entrambi vegetali. Il primo è il fagiolino. Il fagiolino che può essere o fagiolino piatto oppure il classico fagiolino. L'importante è che sia freschissimo e di ottima qualità. L'ho esclusivamente lavorato con un estrattore e ho quindi centrifugato e ho ottenuto una salsa verdissima. L'ho filtrata. La salsa sarà il condimento principale dei raviolini. Naturalmente non voglio perdere questo gusto particolarissimo che solo la centrifuga di fagiolino ha. C'è un leggero gusto di vaniglia e pochissimo gusto piccante. Per il resto il fagiolino è veramente molto molto dolce con una nota vegetale interessantissima e non voglio rovinarla mettendola sul fuoco. Quindi una volta fatta la centrifuga va utilizzata. L'altra centrifuga è una centrifuga di rucola. Si tratta di una rucola coltivata e qui in friuli di ottima qualità con una nota piccante invece molto molto forte e anche una leggera nota amarotica. Sarà da usare in pochissime gocce sul piatto. Entrambe crude. Dopo aver formato i ravioli li spolveriamo leggermente con la farina e possono essere cotti nell'acqua in ebollizione. Vi consiglio di non bollire dei ravioli così delicati con troppo violentemente quindi abbassate sempre leggermente la fiamma. Il colore sarà super brillante perché abbiamo fatto tutta la parte precedente di preparazione praticamente a crudo. Ripassiamo i ravioli giusto qualche istante in una padella con un filo di olio, acqua e sale. Andiamo a impiattare. Andiamo a condire con la nostra centrifuga di fagiolini. Si tratta di un piatto in cui la freschezza risulta fondamentale quindi le salse saranno a temperatura ambiente non fredde. Qualche goccia di rucola. Terminiamo il piatto con l'acetosella. L'acetosella è un'erba molto interessante come tutte le acetose si modifica non appena tocca il calore e l'acidità darà esattamente l'ultimo tocco al piatto. E questo è raviolo di biete parmigiano, fagiolini, rucola e acetosella.